Beffa per il Nereto che contro il Tolentino deve accontentarsi di un solo punto, termina 2 a 2 tra le proteste con i Vibratiani che per due volte avanti si fanno rimontare in extremis con una rete rocambolesca e contestata. Il Nereto approccia bene la contesa e alla primavera occasione utile si porta in vantaggio con una rete in contropiede al 19esimo, pallone che viene lanciato dalle retrovie direttamente da Salvatori che trova Cipriani scavalcando la difesa. Lo scarico su Boito che scarta il diretto marcatore e fa partire un bel diagonale ad incrociare che si inzacca all'angolino e porta in vantaggio i Vibratiani. La reazione del Tolentino passa attraverso le conclusioni dalla distanza, prima al 25esimo ci prova Padovani che sorprende la difesa ma calcia piuttosto centralmente favorendo la parata in due tempi di Palermo, poi alla mezz'ora con Tortelli la cui bordata sorbola di poco il legno trasversale. Il pressing dei marchigiani si concretizza al 35esimo con un'azione in ripartenza simile a quella che aveva portato al vantaggio neretese. Zammarchi scambia con Padovani la conclusione a incrociare del centroavanti che si inzacca a fil di palo per l'1-1. Chiude in avanti il Nereto alla prima frazione con la punizione di Cipriani che al 42esimo calcia per la testa di Ferrini ma la sfera termina alta. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 1-1. La ripresa si apre con il Tolentino in avanti, al settimo al termine di un'azione insistita della squadra ospite la sfera giunge a Zammarchi il tentativo di semirovesciata del numero 10 che termina fuori bersaglio. Il Nereto si difende con ordine, sfrutta le ripartenze, l'intraprendenza degli abruzzesi viene premiata al 14esimo. Quando Montano ruba palla al limite dell'area e dalla sinistra fa partire un pallonetto a scavalcare Bucosse in uscita. Smanaccia il portiere marchigiano ma non riesce ad evitare la rete con la sfera che termina in fondo al sacco per il raddoppio Vibratiano e Montano che corre ad abbracciare del grosso in panchina. Al 23esimo ancora un contropiede del Nereto vicino al terzo gol a dettare l'azione sempre Cipriani autore di una buona prova che lancia Boito ma pressato il numero 10 non riesce a indirizzare la sfera come vorrebbe. Botta e risposta perché al 36esimo il Tolentino va vicinissimo al pareggio. La formazione marchigiana si distende sulla destra e poi c'entra in pieno la traversa con la girata da ottima posizione di Tortelli. Insistono gli ospiti nel tentativo di recuperare al 39esimo Padovani in area serve Fofanà che lasciato tutto solo all'altezza del secondo palo spedisce fuori. Quando ormai il Nereto pregustava il sapore della vittoria arriva la beffa al 45esimo azione insistita del Tolentino che va alla conclusione con Padovani che si scontra con Palermo. Non c'è fallo dice l'arbitro col portiere a terra la sfera arriva Zammarchi che la rimette in mezzo e il tocco determinante di Salvatori che nel tentativo di spazzare infila nella propria porta la palla che vale il definitivo 2 a 2 tra le vibranti proteste neretesi che avrebbero voluto il fallo. Una vera e propria doccia gelata per il Nereto che sommata alla vittoria del Castelnuovo ha il sapore della condanna e a fine gara tutta l'amarezza nelle parole di Del Grosso.